Lexi e Danny erano una coppia felice e molto innamorata. Tuttavia, le persone li apostrofavano come brutti e grassi per via del loro aspetto esteriore. Anni dopo, però, quelle stesse persone si sono dovute rimangiare le parole. Lexi e Danny erano una coppia come tante altre. Erano felici e passavano molto tempo insieme. Condividevano diverse passioni, apprezzavano gli stessi generi di film e amavano persino leggere gli stessi libri. Erano una coppia molto affiatata, una di quelle che genera invidia. I due ci sono conosciuti tra i banchi di scuola e per circa dieci anni sono stati solo amici. Col tempo, però, si sono avvicinati e la loro amicizia si è trasformata in amore. La loro relazione era perfetta sotto tutti i punti di vista, tranne uno. E quel problema era abbastanza grande da ferirli nel profondo. Sia Danny che Lexi sono stati vittime di bullismo per tutti gli anni della scuola. Le critiche e le prese in giro non erano mirate alle loro personalità, perché erano entrambi molto simpatici e affettuosi e chi li conosceva sosteneva che fossero ottimi amici. Il bullismo era causato dal loro aspetto fisico e in particolare dal loro peso corporeo. Danny e Lexi erano infatti piuttosto morbidi. Danny amava rifugiarsi nel cibo quando era stressato o annoiato e consumava merendine e salatini in quantità industriali quando aveva bisogno di sfogarsi. Lexi proveniva da una famiglia di persone sovrappeso e faticava a mantenere uno stile di vita più salutare. I suoi familiari seguivano una dieta da 4.000 calorie giornaliere, ovvero il doppio della quantità raccomandata per gli adulti. La difficoltà condivisa a rapportarsi col cibo è stato uno degli elementi che ha avvicinato ulteriormente i due innamorati. Quando si sono sposati, Danny pesava 127 chili, mentre Lexi 217. Il loro matrimonio è stato un giorno da favola ed entrambi si sono divertiti tantissimo con amici e parenti, ma allo stesso tempo sapevano che da quel giorno in poi avrebbero dovuto cambiare registro. Non potevano continuare ad ignorare la loro salute e volevano smettere di ritroversi in situazioni imbarazzanti per via del loro peso. A volte, infatti, facevano fatica a sedersi sugli aerei o sugli autobus di linea o addirittura a passare attraverso i tornelli della metropolitana. Per entrambi, quelle esperienze erano fonte di grande imbarazzo e per questo dovevano trovare il modo di liberarsene il prima possibile. Danny amava Lexi per la sua personalità e non gli importava che fosse più tonda e morbida delle sue coetanee. Lui la trovava bellissima e quando la guardava gli sembrava di aver vinto alla lotteria. Allo stesso modo, Lexi non riusciva a credere di aver trovato una persona affettuosa e premurosa come Danny e lo amava a prescindere dal suo fisico abbondante. Nessuno dei due voleva cambiare l'altro per motivi puramente estetici e per questo entrambi hanno faticato a intraprendere la strada della perdita di peso. La situazione però è cambiata il giorno in cui si sono concessi una giornata di svago in un parco divertimenti. Erano entrambi appassionati di montagne russe e giostre adrenaliniche, ma non erano mai stati in un parco insieme. Così un giorno hanno deciso di comprare i biglietti per un parco molto apprezzato e si sono presentati ai cancelli all'alba per non perdere neanche un secondo di divertimento. Tuttavia, quando sono entrati, hanno realizzato quasi subito che la maggior parte delle giostre aveva un limite di peso che escludeva Danny o addirittura entrambi. Alcuni sedili erano troppo piccoli per ospitarli, mentre alcune giostre erano semplicemente troppo delicate per sorreggere il loro peso combinato. Quel giorno si sono sentiti talmente umiliati che si sono ripromessi di perdere il peso in eccesso, senza scuse o ripensamenti. La loro decisione non derivava dal fatto che non fossero a loro agio col proprio corpo, ma semplicemente dalla impossibilità di godersi appieno le esperienze della vita. Il peso li stava rallentando, sia letteralmente che figurativamente. Dimagrire non sarebbe stato semplice, ed entrambi avrebbero dovuto cambiare radicalmente stile di vita per riuscire nel loro intento. Per fortuna, potevano contare sull'amore reciproco e su una forte determinazione. Erano pronti a cambiare, e così hanno cominciato a muovere i primi passi verso la loro nuova vita. Lexi e Danny hanno diminuito le porzioni dei loro pasti, arrivando quasi a dimezzarle. La tentazione di riempirsi i piatti di cibo era molto forte, così sono andati a fare compere, e hanno acquistato stoviglie di dimensioni ridotte, così da essere obbligati a ridurre le porzioni. Inoltre, hanno smesso di comprare merendine e cibo che potessero essere consumate immediatamente. In questo modo, non avevano più la tentazione di allungare la mano verso la credenza, e introdurre calorie vuote che avrebbero solo rallentato i loro progressi. Hanno inoltre eliminato gli snack e cercato di seguire la regola basilari dei tre pasti giornalieri, intervallati da spuntini a base di frutta. I cambiamenti hanno dato risultati evidenti in poche settimane, ma la dieta non bastava. Per liberarsi del peso in eccesso, che avevano accumulato negli anni, dovevano seguire anche un programma di allenamento efficace e costante, così si sono iscritti in palestra insieme. All'inizio erano intimiditi perché temevano di essere messi in ridicolo dagli altri iscritti per via del loro peso, ma hanno scoperto che le persone in sala erano tutte gentili e affabili e di grande supporto. I trainer comprendevano perfettamente i loro bisogni e hanno compilato delle schede di allenamento adeguate alle loro condizioni fisiche. Col passare delle settimane, andare in palestra ha smesso di essere un'attività temuta ed eseguita a muso lungo. Si è trasformata in un evento divertente e sociale per entrambi. Per documentare la loro perdita di peso, Lexi ha aperto un profilo Instagram in cui ha condiviso i loro progressi. Qui postava foto e video dei loro allenamenti e dei loro pasti salutari, e in poco tempo il suo profilo ha accumulato migliaia di follower. Lexi e Danny avevano commesso l'errore di credere di essere gli unici in quelle condizioni, ma hanno scoperto di essere in ottima compagnia. Centinaia di persone in tutto il mondo stavano vivendo il loro stesso problema e hanno tratto ispirazione dalla loro determinazione. Così Lexi e Danny sono diventati due influencer e hanno letteralmente influenzato tantissime persone a seguire i loro passi. La loro forza proveniva soprattutto dal fatto che potevano condividere gioie e dolori del loro percorso l'uno con l'altra. Si incoraggiavano a vicenda nei momenti più difficili e festeggiavano insieme i loro successi. Il loro cambiamento non stava avendo solo degli effetti incredibili sulla loro salute e il loro aspetto esteriore, ma li stava anche avvicinando come coppia. Non tante persone affrontano una sfida così dura in compagnia della loro anima gemella, ma quelle che lo fanno, proprio come Danny e Lexi, nescono più forti e affiatate di prima. I due innamorati avevano cominciato il loro percorso con l'obiettivo di migliorare la loro condizione di salute, ma avevano anche un secondo fine, che per il momento non avevano condiviso con nessuno. Volevano rimettersi in forma per mettere su famiglia, uno sforzo che Lexi non avrebbe certo potuto compiere con un fisico incapace di sopportare il peso di una gravidanza. Rimanere incinta avrebbe potuto avere delle conseguenze devastanti sul corpo che aveva prima di cominciare a dimagrire, e crescere un figlio attivo e vivace con tutto quel peso in eccesso non sarebbe stato semplice, nemmeno per il papà. A distanza di anni dal loro primo pasto veramente salutare, Danny e Lexi hanno continuato ad impegnarsi, e oggi hanno raggiunto un traguardo incredibile. Danny ha perso 30 chili, mentre Lexi ben 108, dimezzando letteralmente il suo peso di partenza. Oggi è metà della donna che era un tempo, ma può contare sul doppio della salute, della mobilità e soprattutto della felicità. Entrambi si sentono più sani e forti, e devono tutto al loro regime di dieta salutare ed esercizio fisico costante. Lexi e Danny sono persino stati invitati a partecipare a diversi programmi televisivi per raccontare la loro esperienza. Il loro profilo Instagram è diventato un punto di riferimento per migliaia di persone, e le comparse in televisione hanno contribuito da crescere la loro fama e a diffondere il loro messaggio. Quando le persone sentono parlare di Lexi e Danny, dei loro sforzi, delle difficoltà affrontate e dei risultati ottenuti, si sentono ispirate a cominciare a loro volta un viaggio verso un corpo più salutare. Quando si decide di cambiare, non c'è ostacolo che tenga, e Danny e Lexi ne sono la prova concreta. Entrambi sono riusciti a spezzare un circolo vizioso di cibo spazzatura, alimentazione confusionaria e sedentarietà, diventando più attivi, più attenti a ciò che mangiano, e soprattutto più felici e orgogliosi di se stessi. Adesso sono pronti a mettere su famiglia, proprio come sognavano, e magari anche a tornare nel parco divertimenti che ha dato il via alla loro trasformazione. Ora nessuno ride più di loro, ma la cosa più importante è che il loro amore è ancora vivo e forte come il primo giorno. Che cosa pensate dello sforzo incredibile compiuto da Lexi e Danny? Siete mai stati vittime di bullismo per via del vostro peso o del vostro aspetto fisico? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.